Dopo il grande successo con Filippo Gilberra al Mondiale, la BMC torna sulle strade italiane con il Gran Piemonte e il Lombardia. Intanto qui a Biella come vi siete trovati? Molto bene, avevamo qualche speranza di risultato. Abbiamo due corridori alla fine nei primi dieci, Sant'Ambrogio e Van Averman. Speravamo qualcosina di più, vicini vicini al podio che era quello almeno che ci aspettavamo. Siamo soddisfatti perché ci avviciniamo a Lombardia con 4-5 ragazzi che possono essere veramente di supporto al campione del mondo. Non vi ne bastavano due di campioni del mondo in squadra, adesso ne avete un terzo. Filippo Gilberra, che sensazioni? Se conti Evans, Ballan e Toruscio, questo è il quarto che correrà con noi. Sicuramente questa è un'ulteriore soddisfazione per la squadra, per me che potrò avere l'onore di guidarlo, di seguirlo in corsa. Ma come per tutti, felicissimi e fieri di averlo in squadra. A Biella c'è un team di ciclisti amatoriali sponsorati da BMC, vuoi fare un saluto a loro? Un saluto, li ho visti numerosi sulla salita e li ringrazio per il tifo e un in bocca al lupo a voi per la vostra stagione ormai futura. Grazie di essere venuti a supportarci. All'ABMC? All'ABMC sicuro. Grazie a voi. Grazie a voi.